Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi di un corso in miracoli. Allora oggi volevo parlare con voi del giudizio, del giudizio che è l'arma che usiamo contro noi stessi perché visto che tutto è uno e che non c'è nient'altro che uno, tutto quello che facciamo agli altri lo facciamo noi stessi ed è questo che dobbiamo svegliarci a capire. Da questo sogno di separazione noi ci dobbiamo svegliare, da questo sogno in cui noi crediamo di essere dei corpi, crediamo di essere soli, quindi dobbiamo trascendere questo corpo e i suoi cinque sensi, i suoi testimoni così come li chiama il corso perché una volta che capisci che questi cinque sensi sono i più grandi ingannatori di tutta la nostra esperienza di vita, di tutto questo sogno qui in 3D? Allora capisci tantissimo. Quando inizi a capire questo inizi a vedere la fotografia dall'alto, non solo un angolino che ci fa vedere l'ego perché è quello che sta succedendo ora. Noi non possiamo vedere la complessità, la fotografia completa di ciò che è. Quindi noi vediamo solo un angolino di questa fotografia e in base a questo angolo dalla nostra prospettiva ci giudichiamo. Quindi la nostra mente, il nostro ego giudica. Giudica come naturalmente seguito naturalmente dai suoi cinque più grandi testimoni, dai nostri cinque sensi. Invece quando iniziamo a svegliarci e a vedere la prospettiva, la fotografia dall'alto a trascendere l'ego, iniziamo a capire che è tutto un'illusione. Ok? E ci sono dei momenti in cui riesci, almeno per me è così, riesci a essere consapevole di quello che stai facendo e cioè stai facendo un'esperienza. Stai facendo un'esperienza in 3D e quindi tu sei colui che vede ciò che sta succedendo intorno a te, giusto? Ma lo vedi dalla prospettiva dall'alto e cioè ti alzi nella consapevolezza, ti alzi in verticale e allora sei sul sistema di pensiero dello Spirito Santo che vede per te attraverso il velo dell'oblio, attraverso il velo della dimenticanza e quindi iniziamo a ricordare ciò che siamo e ciò che possiamo fare. Ecco perché la rabbia viene, il corso dice che la rabbia deve venire dal giudizio, che il giudizio è l'arma dell'ego, come abbiamo detto, la più forte e che la usiamo contro noi stessi e quello che dobbiamo realizzare noi è che il momento presente e cioè l'adesso, in questo istante, il adesso è il momento più prezioso che ci dà tutto ciò che vogliamo indipendentemente dalle circostanze se capiamo che viviamo solo in questo istante, ok? Perché quello che a cui sta puntando veramente il corso è questo, che noi giustifichiamo i nostri giudizi su quello che c'è in questo momento, su tutto ciò che vediamo, la nostra mente giudica il presente momento, adesso nascondendoci il miracolo stesso di questo istante di vita che sta prendendo forma, che si sta manifestando ora in questo istante, ok? L'amore, la bellezza, tutto ciò che contiene questo istante sacro e tutto ciò che sta intorno a noi. Perché la nostra mente egoica, l'ego, ci porta via da questo istante, ci porta via con l'inganno, è il più grande ingannatore, ci porta via da questo dicendo che è una cosa che non ci piace, che è una cosa dozzinale, che è una cosa normale, che è una cosa che non ha importanza, che è una cosa abituale, ok? E quindi io volevo proprio parlare con voi oggi di questo strato più sottile, di questi strati più sottili del giudizio che l'ego sta facendo ogni istante che vediamo e di cui non ce ne accorgiamo, perché? Perché magari siamo svegli a capire le cose grosse, i giudizi, gli attacchi più grossi che abbiamo contro gli altri e quindi la capiamo di più, capiamo qualcosina di più e sappiamo che lì quando reagiamo con violenza contro qualcuno c'è sempre qualcosa da guarire dentro di noi e quindi capiamo che siamo sul sistema di pensiero dell'egoico, dell'ego, giusto? Ma non ci rendiamo conto, almeno per quanto mi riguarda, delle sottigliezze di questo giudizio che è continuo, continuo, perché questo corso, come abbiamo detto, ci ha fatto vedere le cose più ovvie i giudizi ovi, come dicevo, quelle più grossi quelle di vedere gli altri come separati da noi e non vederci in questo caso e vittimizzarci queste cose che abbiamo imparato quest'anno e ora siamo diventati più, un po' più, come dire, consapevoli quindi siamo stati più, siamo più bravi a catturare l'ego all'opera come dire, a sorprendere il ladro a rubarti in casa ma guardate che ci sono quelle sottigliezze che sono continue, continue che fino adesso, devo dire, non le ho mai viste per quello che sono e vi posso assicurare che è un continuo aprire la mente e gli occhi io, come dire, vi chiedo, se volete, naturalmente, di non fermarvi qui una volta che avete sentito le lezioni oppure avete sentito il testo di non fermarvi qui di riascoltare continuamente il testo perché io ho notato che riiniziando da capo il testo nonostante stiamo facendo gli ultimi capitoli del testo naturalmente ho iniziato da capo ogni mattina ad ascoltare la lezione del primo capitolo e naturalmente quella del giorno e, come dire, ho usato questa parola in un video recente che effettivamente ti arriva quell'epifania come dire, quel aha moment come lo dicono gli inglesi ok? ti arriva quella apertura quella consapevolezza quella certezza quel momento in cui vedi, come dicevo sorprendi il ladro all'opera e sorprendi l'ego in azione man mano che ci muoviamo attraverso il nostro risveglio spirituale come abbiamo detto mentre ci muoviamo attraverso strati dopo strati dopo strati di queste etichette che la mente egoica dà a tutto e a tutti e a ogni istante naturalmente diventa più sottili queste manovrazioni queste macchinazioni dell'ego ed è per questo che ci richiede tanta consapevolezza e per diventare consapevoli dobbiamo diventare e, come dire, tenere la mente allerta perché quello che volevo dirvi non è che se finisce il corso qui finisce il nostro percorso spirituale è un continuo crescere che ci porta verso il risveglio spirituale e questo è un lavoro che se riusciamo a farlo in questa vita nella prossima incarnazione sarà più facile per noi perché avremo un'incarnazione non più di terza densità e cioè dove ci sia l'ego non più un'incarnazione dove c'è il velo dell'oblio ok? se riusciamo a svegliarci completamente a capire che noi siamo il creatore a capire come funziona la nostra mente divisa la mente egoica e se riusciamo a trascendere questo ego la prossima incarnazione sarà più facile perché nella prossima incarnazione torniamo ancora sulla terra che è nella quarta densità ed è quella dell'amore è quella dell'amore universale ok? è quella dell'apertura del chakra verde del cuore quindi vi consiglio vivamente se volete se volete evolvervi come anime come purezza se volete trovare la vostra identità e se volete evolvervi come dicevo vi consiglio di continuare a sentire questi testi continuamente perché? perché dieci minuti della vostra attuale esperienza vi porterà a capire molto ma molto di più e vi posso assicurare che ogni volta che sentirete una lezione o un testo avrà qualcosa da dirvi ancora e ancora e anche se lo sentite centomila volte avrà sempre qualcosa da dirvi per me funziona così e credo che anche per voi perché se funziona per me vi posso assicurare che funziona per tutti così per essere in grado di vedere queste sottigliezze dell'ego all'opera dobbiamo imparare a vedere attraverso il velo dell'obbio a vedere attraverso le macchinazioni e noi lo vediamo attraverso lo spirito santo questo a vedere la fotografia completa giusto? perché come dicevo c'è uno strato di sottigliezza sottigliezza nei nostri giudizi e così noi appena attraversiamo alcuni giudizi ovvi abbiamo come dire toccato i nostri quelli più superficiali i nostri giudizi verso gli altri verso il mondo verso la società verso la malvagità verso il cattivo eccetera e quindi cosa facciamo? iniziamo a notare modi sempre più difficili per diventare per diventare consapevoli che in realtà stiamo ancora giudicando e quello che giudichiamo è sempre questo istante la nostra mente cioè l'ego giudica sempre questo istante sacro dove la vita prende forma ed è per questo che in qualche modo vi dico che richiede qualcosa di specifico un incremento del livello di purezza in noi stessi ok? una specie un livello come dire di cristallizzazione in noi che ci porterà attraverso tutti questi strati strati e strati di giudizi tutti in una volta fino in fondo ok? e questo vuol dire amare la verità per l'amore della verità stessa non perché ho ragione non per essere libero o qualsiasi cosa io pensi non perché per qualunque cosa sia giusta è giusto non perché quelle sono cattive o meno non per quelle perché quelle ragioni sono giuste per amare la verità ma per amare la verità perché è la verità ed è questo che dobbiamo imparare a fare noi perché è giusta perché è la realtà perché io voglio essere in questa realtà amare la verità per l'amore della verità mi porterà così più rapidamente in fondo a tutti questi strati di giudizio ok? e sarà più veloce naturalmente e così posso iniziare a diventare consapevole di tutti i modi in cui sto ancora tenendo la menzogna nella mia mente questa falsità questo giudizio e quindi questo giudizio di falsità nella mia mente e la seconda cosa è quello che noi chiamiamo la mente innocente la mente retta la mente giusta la mente che non giudica la mente come dice Buddha la mente innocente ecco perché dobbiamo comprendere che non so nulla io non so nulla di quello che mi importa il prossimo momento il prossimo istante perché la verità è così trascendente al di là di qualunque cosa al di là di qualunque cosa quindi la mente razionale la mente egoica l'ego non possa mai concepire questo e più diventiamo consapevoli di questo più sperimentiamo la verità ok nella sua come dire natura radicale nelle sue radici come dire nella sua omnicomprensiva come dire essenza ok andiamo iniziamo così a capire che c'è qualcosa di così epico di così forte di così magnifico come dire che io non potrei mai conoscerlo con la mia mente egoica non potrei mai concepire con la mia mente quindi non potrei mai viverla con la mia mente egoica e così iniziamo a vivere con questa mente innocente con questa mente infantile che non conosce che non sa e questa mente di cui parla buddha questa è la nostra mente sana giusto dove non siamo più possiamo dire assolutamente che non posso sapere con certezza ciò che succede perché io non posso capire che cos'è questo momento cosa sta succedendo in questo momento non posso sapere come sta funzionando il potere divino dietro le quinte perché io faccia che lavoro c'è dietro le quinte in quel senso mi sono spiegata non posso capire giusto che cosa è dietro le quinte di questo istante posso solo essere posso solo essere posso solo stare con ciò che è posso solo esistere a fidarmi e a rendermi alla vita e a lasciare che la vita mi viva e lasciare la vita nella sua magnificenza a farmi vedere ok lasciare questa magnifica intelligenza all'opera e vedere ciò che sta facendo tutto e che sta facendo tutto per me perché io da me non faccio nulla io reagisco a ciò che è la vita che mi mette davanti e se non reagisco più a ciò che la vita mi fa allora io non soffro più se lascio la vita vivermi attraversarmi e accettare questo momento per quello che è senza giudizio senza giudicare senza indovinare come fa la nostra mente cosciente egoica indovina ciò che pensa che sia il futuro e tenerci intrappolati nel tempo nel passato se io lascio la vita che mi vive per quello che è senza giudizio senza etichetta come dire senza senza questi strati e strati come dicevamo di giudizio allora vedo la sua bellezza perché la mia mente è un mezzo per questo la mia mente è un mezzo finito quindi non può mai conoscere l'infinito ok è impossibile perché la mia mente cosciente è finita ok non può mai conoscere l'infinito ecco perché dobbiamo imparare a vivere con quell'innocenza di colui che non sa che non conosce è quello appunto che Buddha dice la donna mind e cioè la mente che non sa la mente che non conosce ed è questa la mente illuminata e come dicevamo e quella è la liberazione e quello ciò che ci libera da questa sofferenza psicologica da questo soffocamento da questa mente egoica da questo pensiero distorto da questa piccola idea pazza come lo chiama il corso allora io mi fermerei qui e partirei da qui con voi a parlare ancora delle sottigliezze del giudizio che l'ego fa io vi saluto mi fermo qui vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con il prossimo video ciao a tutti e grazie di tutto ciao a tutti Grazie a tutti.